perché ragazzi qua siamo in diretta oggi ma non passate tutti sono in diretta bene allora sentite se si sente io partirei allora siamo qui perché ci siamo così anche un po' per divertimento incuriositi perché a questo punto non riusciamo più a capire che cosa i sostenitori italiani di mmt altrimenti nota come modern monetary theory ritengono la teoria diffusa da sbagliate persone fra cui Mosler, Ray e altri consista a seguito di un brevissimo articolo molto semplice molto chiaro critico ovviamente di Gianluca sul blog del sole 24 ore noto come Conopoli non so se pronuncio bene un giovane studente neolaureato che segue questa teoria ha scritto un articolo molto critico dicendo a Gianluca che probabilmente non aveva capito niente che non sapeva di cosa parlava siamo rimasti piuttosto basiti perché le cose che il giovanotto afferma sono improbabili ora io non voglio mettere niente in bocca alla signora in questione è stato invitato se vuole venire a spiegarci perché Gianluca e quindi anche io perché condividevo perfettamente quello che Gianluca ha detto siamo nell'errore e benvenuto a farlo l'idea invece di continuare un dibattito a botte di lunghi articoli che nessuno riesce a fare peer review in cui si dice di tutto il contrario di tutto che poi per smentire bisogna metterci dieci giorni perché ogni riga richiede rinvia testi elementari ma evidentemente non letti non ci è sembrata quindi abbiamo detto facciamolo noi se qualcuno ha voglia di spiegarci come funziona eccolo qua ora vedo che c'è anche Cristian Mesiano e Gustavo Baratta e io farei una breve introduzione anche perché allora Thomas e Costa del quartetto della chiacchierata da cui è uscita l'idea volevano esserci ma hanno degli impi lavoro più stringenti Thomas è stato chiamato a rapporto hanno una ristruttura insomma ha delle cose a fare lui si dì ci ha chiamato poco fa dicendo non ce la faccio e costa ancora un impegno in una riunione di lavoro quindi ci siamo Gianluca ed io io procederei così mi prenderei ci prenderemo un quarto d'ora 20 minuti una cosa del genere per illustrare il nostro punto di vista oh c'è anche Fausto Panunzi abbiamo anche una rappresentanza ufficiale dell'Università Bocconi ciao Fausto e darei a Gianluca non so quello per me Fausto più che altro rappresenta il toro qui ecco che veniamo nel canto il tifo dovete sapere che chi non l'avesse capito Gianluca è molto più difuso di quanto non sia io della squadretta di Milano formata internazionale io sono autorizzato una mini birra perché qui è notte fonda allora Gianluca cinque minuti io cercherò di fare sia il regolatore dei tempi cinque minuti per dire il tuo punto di vista sulla cosa cinque minuti cinque vai e poi passiamo la parola io io più che altro avevo fatto un articolo cercando come in tutti quegli articoli che vanno su Econopoli di semplificare più che si poteva per non andare troppo nel tecnico e ovviamente quando semplifichi devi lasciare dei dettagli a parte no e quindi per non andare troppo nel tecnico eccetera eccetera francamente vabbè l'articolo è questo che sta mettendo ora Michele sul sharing questo articolo in pratica diciamo così prendeva in esame l'MMT da un punto di vista proprio basico e senza andare troppo nello specifico nel sia il sistema dei contratti che tutto il resto e parte dalla diciamo dall'assunto che l'MMT considera come leva principale per il raggiungimento della piena occupazione l'uso della moneta e e quindi da una 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 è una specie come ho scritto di monetarismo 4.0 cioè ma lo scrivo in maniera ironica ovviamente e diciamo centra sulla leva monetaria un po' tutto il tutti i tools che si possono usare per arrivare alla piena occupazione e ovviamente ho l'obiezione quella sull'inflazione perché gli dice vabbè se stampi troppi soldi prima o poi avrà infrazione reagisce dicendo quello quello specifico aspetto lo regolo con le tasse o ovviamente la leva tassi quando tu sai che in un sistema alla fine si stamperanno più soldi a un livello a un potere di signaling zero no perché a me che me ne frega del livello dei tassi se so che a un certo punto stampi niente quindi io ho fatto un articolo semplice mi è stato risposto con un articolo abbastanza piccato facendo diciamo secondo me una confusione clamorosa tra sistema contrattuale politica monetaria politica fiscale eccetera eccetera e facendo riferimento anche a una frase di draghi mostrando l'articolo in questione se volete poi possiamo anche andarci ma io poi dopo ci andrei frase per frase per frase per frase perché è una roba dove che non si capisce io non so da dove iniziare no però diciamo facendo riferimento a una frase di draghi o a degli scritti diciamo quasi accademici dove si dice va bene discutiamo di questa roba qui che è in fondo politica fiscale no perché se io stampo moneta o a zero le tasse è uguale cioè alla fine l'effetto più o meno è lo stesso quindi non saprei da dove iniziare michele nel senso qui per esempio la prima frase dice una cosa che per me è totalmente sank no cioè irrilevante ai fini dell'analisi dice o alla mmt si attribuisce l'idea di essere una teoria economica e quindi una guida alla prassi legislativa e politica ma tutti i sistemi giuspositivi hanno una prassi legislativa che cosa mi state venendo raccontare cioè che ci sono dei contratti sì lo so anch'io cioè e quindi non lo analizziamo perché o si ammette che siamo in un'unione sovietica o in una dittatura dove c'è uno che si sveglia e ti dice cosa devi fare oppure quel quella osservazione è completamente irrilevante e ci sono i contratti beh e quindi c'è il punto la mia analisi era ok ma tu cosa usi no quali sono i lever che io usi per arrivare al tuo obiettivo la mia critica è che quella teoria lì teoria insomma questa roba qua usa fondamentalmente solo la moneta no allora allora hai passato vediamo se hai esaurito sei esaurito i tuoi cinque minuti io direi al mio tiro ordine anzitutto chiedo ai tre che sono in rete se ci sentono e se noi siamo in grado di sentire loro nel caso volessero intervenire era arrivata una quarta persona non ho fatto tempo a leggere chi fosse sì neanche io queste tre persone però le conosco sono da in basso a destra almeno sullo schermo mio non so cosa quale ordine vedono le persone che assistono abbiamo Fausto Panunzi Gustavo Barato e Cristian Mesiano allora Fausto tu ci senti noi ti sentiamo sì sì mi sento perfetto Gustavo anche io confermo vi sento benissimo Cristian sì sì perfettamente ma penso che mi connetto da YouTube perché voglio solo ascoltare non ho nulla da aggiungere su questi su questi temi ci mancherebbe altro se vuoi farci una cortesia e ascolti da YouTube perché così evito di saturare la banda mi sembra essendo dietro al wall di Xi Jinping e avendo quindi una connessione tutta per VPN complicati ne ho dovuto collegare adesso ho fatto un caso assolutamente infatti lo stavo scrivendo di suggerire di andare su YouTube perché sennò vi satura la banda se si connettoni 10 no no ma io sono contento che ci sia anche Fausto qua che così almeno lo so ma io sto scrivendo un esame ragazzi quindi fai una domanda fai una domanda allora su no no sto ascoltando ragazzi dopo eh ma la può fare Gustavo anche che si occupa di cose relate diciamo così mi sa che qua è l'unico Gustavo l'unico serio è Gustavo adesso così ecco Fausto se ne è già andato offeso va beh sarà subito Fausto ogni volta che lo tocco gli tocco il pelo per torto e va bene allora no io vorrei chiarire subito una cosa tutta la prima parte dell'articolo davvero mi dispiace per questo giovanotto che l'ha scritto oh madonna è sparito Gustavo Baratta per la rete è un po' di lana caprina eh adesso la teoria monetaria lui fa una grande questione a discutere se eh la cosiddetta MMT sia una teoria monetaria una teoria fiscale allora guarda questo è uno dei guru no di questa l'ho anche conosciuto tanti anni fa quando girava per il Missouri Randall Wright differente da Mosler io allora ho dei testi di Mosler siccome però non sono stato autorizzato a mostrarli pubblicamente dall'autore alcuni uno scambio di mail che lui ha voluto fare eh dopo che se ne è andato dal dibattito con me eh io sono ovviamente tentato a mostrarle perché da soli taglierebbero la testa al toro visto che c'è scritto a firma di uno dei proponenti maggiori della MMT che appunto di una teoria della moneta è di una teoria moneta che si ritiene alternativa a tutte le esistenti e che ritiene di avere dei contributi fondamentali da dare siccome questo autorizzazione non ce l'ho di questi due testi uno è un white paper che lui ha diffuso fra alcune persone e l'altro appunto questo scambio di mail mi astengo dal farlo anche se posso tranquillamente dire che su quei testi si è scritto chiaramente che appunto di una teoria della moneta si tratta di una teoria della moneta in cui la moneta può essere emessa in maniera illimitata e a piacere non che deve sempre emetterla in maniera illimitata ma che può essere emessa in maniera illimitata dallo Stato direttamente di cui la banca centrale è semplicemente un agente come eh Mosler ama dire e tutte le banche a suo avviso sono agenti che questa può tranquillamente su sopperire alle tasse le quali come ha detto Gianluca dovrebbe essere usate solo per ritirare un po' di moneta quando eh alla allo Stato al governo gli sembri che ce n'è in eccesso e quindi eh questo è è tutta la discussione quindi abbastanza è abbastanza vuota qua basta dare un'occhiata a questi paper e il signore dice noi abbiamo una teoria alternativa della moneta eccola qua in the intellectual history of an alternative to the orthodox approach to money and credit Charles Goodhart has usefully distinguished between what he called orthodox metalists and the orthodox chartalist approaches eccetera loro in parte si rifanno una tradizione che tra l'altro io apprezzo che risponde a una domanda del tutto accademica su che seria è importante la domanda accademica è quella cosa è l'origine della moneta e come si è evoluta nel tempo se c'è qualcuno in rete che poi spunta ci fa domande su questo ah io ma è una cosa molto dottrinale che richiede anche molta attenzione a quello che si dice eh felicissimo di parlarne però per capirla occorre avere almeno un minimo di eh conoscenza di quali sono le discussioni teoriche in nel campo della teoria del equilibrio economico generale della moneta eccetera eccetera comunque non mi pare sia alcun dubbio che è una teoria della moneta una teoria monetaria che si che pretende di essere alternativa alle esistenti e che dice che lo stato dovrebbe fare certe cose e in particolare e qui chiudo il mio intervento andando su questo altro ecco qua su credo che per capire visto che forse qua interessa di più a chi ci ascolta l'aspetto diretto di politica economica di intervento che si può fare in questi giorni qui una posizione addirittura pubblicata a sole 24 ore credo a firma di Mosler e di un signore scrive articoli un po' strani Vito Lops che è una specie di mini intervista in cui è chiaro cosa cosa suggerisce Mosler e dice queste cose un po' strane ecco a me piace io queste cose non le riesco nemmeno a discutere perché uno che comincia dicendo lo spread non dovrebbe esistere sale perché la bce minaccia di rimuovere la garanzia sul debito pubblico per tutti quei paesi membri che non rispetto a regole politica fiscale mi fa un po' ridere però mi piacerebbe che se ci fosse qualcuno che vuole difendergli quegli argomenti io non riesco a discuterli perché argomenti insensati notoriamente non si possono discutere ci ho provato appunto col Mosler quando ho provato un attimo a mettere in ordine i suoi le sue frasi incoerenti è scappato per questo stasera ci siamo offerti di essere quindi detto questo sulla questione numero uno a che il giovane aveva posto io adesso siamo rimasti solo tu e io allora io non ho un grande accesso alla live tu riesci a leggere sì sì io ce l'ho no però io volevo se possibile se tu riesci a leggere domande che hai fatto allora falle tu conduci tu perché io purtroppo non vedo no no ma io sì sì certo io volevo solo dire una cosa no prima io volevo fare lo sharing di una cosa sempre sul tema no della MMT cioè che perché mi si dice ma tu la semplifichi troppo eccetera eccetera allora una delle cose di uno dei loro teorici no che non ho scritto io hanno scritto loro ok una delle cose che che si dice è la seguente no in MMT we see public debt as private wealth cioè il debito pubblico è una ricchezza privata e gli interessi sul debito come privati come redditi privati il debito pubblico outstanding cioè che il debito pubblico emesso è una espressione dei deficit accumulati che sono stati eh fatti nel passato i deficit i deficit i deficit accumulati hanno hanno creato asset finanziari nel settore privato solo se la domanda per beni e servizi eh cioè providing cioè nel nel modo in cui la domanda di beni e servizi è riuscita a farci mantenere il la crescita dei redditi io tu la capisci sta roba qua che c'è scritta no cioè pure Harvard Business Review non è che l'ho scritto io questa roba qua Harvard Business Review non è esattamente la migliore no no ma dico vabbè uno di loro no proviamo a leggerla lentamente no eh sì perché anche lì no anche questo articolo qui fa la la il paio con quell'articolo lì cioè si mischia di tutto cioè è è una roba che è la crescita dei redditi ci ha permesso la frase intermedia è sensata di outstanding public debt is certo è la somma dei deficit e va bene ma dei deficit in realtà no perché anche la somma dei deficit più interessi ma non importa ma bene importa allora la loro idea è che questo che il deficit di bilancio aggiunge un asset finanziario al settore privato è vero? eh nel senso che un asset finanziario uno lo può usare nella misura in cui i governi pagano gli interessi sul debito che emettono e a scadenza o li rifinanziano che c'è qualcuno che vuole rifinanziarli o li ripagano il debt club pubblico è un ottimo asset e se il governo è reliable è un asset migliore che so di quello che potrebbe mettere Michele Boldrini e va bene eh allora la parte ovviamente buffa è che providing the demand for goods and services that allowed us to maintain income growth allora questa è se ci pensi la classica fase super keynesiana cioè del keynesiano impazzito che ha deciso che l'unica fonte che la maniera in cui si crea domanda di beni e servizi nell'economia è solo attraverso l'emissione di debito pubblico finanziare la spesa nel loro modellino ultra semplificato del mondo l'unica fonte di domanda che esiste è quella che è il modellino della cosiddetta Keynesian Cross e la domanda autonoma indipendente che viene dal governo giusto come possiamo dire non so se questa sia un'affermazione positiva nel senso che vuole descrivere come funziona l'economia di questo mondo o se sia un'affermazione di principio del dovere essere che bisognerebbe che fosse così però Michele scusami se ti interrompo allora uno dei punti cardine di tutta questa cosa qua e allora attacchiamo la 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 gran cassa sul sistema dei contratti e come organizzato diciamo il contratto sociale eccetera eccetera una di queste delle cose principali dell'MMT è che e ne hai discusso anche tu con Mosler e tu l'hai contestato quasi da un punto di vista più tecnico che filosofico e quando a me ti dice siamo tutti agenti del governo no tutti giusto perché quello dicono loro no le banche sono agenti del governo tu in quanto hai creato il governo ti ha creato gli asset direttamente o indirettamente sei agente del governo quindi cioè la cosa infatti anche nell'articolo dove mi si critica a a un certo punto si dice il governo stabilisce qual è il prezzo dell'ora lavorata no se tu vai a vedere se fai vedere in questo articolo che di critica nei miei confronti dice il governo stabilisce anche l'ora lavorata quindi il prezzo dell'ora lavorata quindi cioè si immagina una specie di leviatano con un politburo che attraverso la quantità di moneta crea una specie di organizzazione dove tutti agiamo in coordinati spintanei diciamo così da lui cioè che però allo stesso momento si dice che si vuole uno stato piccolo cioè allora io anche qui cioè poi io non avrò capito un cazzo per carità scusate il francese però francamente si dovrebbero mettere d'accordo perché se siamo tutti agenti del governo siamo tutti agenti del governo non è che possiamo essere agenti del governo da a metà cioè e questo è l'altra cosa no quando loro dicono a l'MMT non è solo la moneta ma è un sistema legislativo è purtroppo aggiungo io perché se 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 lo vogliono fare così non so se a me piace no per esempio e infatti io nel mio articolo critico anche quel punto non è che lo faccio andare lo critico dicendo va bene volete uno stato piccolo però poi siamo tutti agenti del governo poi tu hai contestato mosler sul fatto che le banche in quanto voglio dire accentratori del sistema dei pagamenti non vuol dire che quello sono agenti del governo perché lui ti ha detto così no durante quella famosa call lui ti ha detto le banche prendono le tasse e quindi c'è sono quelle che raccolgono le tasse e quindi sono agenti del governo che cazzo vuol dire allora anche le poste o i tabaccai sei senza microfono Michele scusami sei senza microfono non ti sentiva quindi quello che voglio dire tutti quelli che fanno la ritenuta d'accordo se è per quello anche ha capito sì la c'è una cosa la città una cosa per chiarire questo a me piacerebbe di nuovo non so se ci sono domande lì che tu vedi no non ne vedo no non ne vedo un attimo che hai mostrato visto che ne passano tante però sono andati via tutti quelli che volevano stare con noi sì no no ma no sono lì c'è nessuno parliamo che manuele dritto allora finché manuele dritto ci senti sì un giovane allora qui in realtà in quella che oggi è il mondo mmt che anche per curiosità ho esplorato sociologicamente è quella che loro adesso chiamano mt in realtà è la conflagrazione o il mischiotto chiamalo come voi di una serie una appunto antica teoria della moneta che ha la sua dignità credato il buon boldrin apprezza e sostiene pubblicamente nei seminari economia monetaria con gli amici che fanno search theory o mani e altre cose cercando di spiegare che il vecchio punto di vista chartalista statalista ha una sua dignità teorica ed è probabilmente storicamente quello più adeguato a capire la moneta specialmente la moneta fiat ok la sua origine la sua funzione eccetera è perfettamente integrabile nei modelli macro che usiamo ovviamente ha delle tradizioni un po' diverse ma io l'ho anche spiegato ho fatto per chi interessato c'è un vecchio video mio con francesco lippi quindi discutiamo la questione ci sono due video miei alle origini del non di questo canale ma del mio in cui in due pillole domenica mattina cercai di spiegare in che senso usando l'approccio chartalista se appunto non mi va di chiamarlo mmt ma proprio chartalista si riesce a capire che differenza c'è fra due passività del governo una chiamata moneta e l'altro insieme di passività dei governi o degli stati se volete che non sono passività dei governi sono passività degli stati una cosa diversa chiamate debito pubblico usando una metafora che cercavo di semplificare ma che si può rendere esatta e matematica fatto che uno è un claim appoggiato dalla legge dalla forza del governo al gmp prodotto oggi cioè la moneta e la ricchezza in essere oggi l'altro invece un claim sul gmp prodotto nel futuro allora questa teoria ha la sua dignità loro ci hanno aggiunto una serie di miracoli di stampo a metà fra il marxista e il keynesiano ok cioè l'idea che stampando moneta mettendo moneta acquistando beni e servizi a go go crei piena occupazione l'idea che puoi mantenere comunque imporre i tassi a zero l'idea fondamentalmente che ha un governo a loro avviso che utilizzasse lo strumento monetario per l'acquisto generalizzato di beni e servizi potrebbe mantenere sia occupazione stabile al cento per cento diciamo la piena occupazione sia stabilità dei prezzi ed infine nelle controversie di questi anni sul debito pubblico cosa sono arrivati a dire sono arrivati a dire la cosa che ci sentiamo ripetere da tutti questi buffi sovranisti no e cioè che siccome tu puoi stampare moneta un governo sovrano non fallisce mai questa è una cosa abbiamo discusso mille volte ed è un gioco di parole perché è vero che un governo sovrano fino a che il popolo incazzato non li appende tutti a testa in giù ok ma facciamo finta che il popolo non si incazzi mai sia buono passivo gentile e sottomesso governo sovrano può continuare a sostituire passività liability di un certo tipo cioè debito con passività di un altro tipo sì ma perché michele scusami se ti interrompo per dire una cosa solo perché loro sostituiscono la parola default la definizione di default isda cioè dei contratti derivati cioè per loro il default è solamente quando uno fa un miss un miss payment cioè non fa un pagamento ed è vero che se io posso stampare la mia moneta all'infinito io non mancherò un po mai un pagamento ma ho debasato la moneta finché ho messo debito in moneta mia che controllo sia chiaro sì certo ma ho debasato completamente la moneta in PPP internazionale un gioco di parole cioè ma che gioco è questo qua un gioco di parole che davvero è un po ridicolo irrita addirittura chi ha un minimo di onestà intellettuale però costoro continuano a utilizzarlo Gianluca ma arriva continuamente e Vrai va in giro continuamente ripeto una cosa fastidiosa perché infatti il mondo è pieno di esempi che dicono certo tu tutte le volte che hai amesso debito e che non riesci ad accogliere risparmio vero privato di risorse reali per ripagarlo puoi semplicemente creare moneta perché ne hai il monopolio perché il monopolio imposto con la forza sì no no si rifanno una cosa che su cui poi voglio tornare hai monopolio su un certo tipo di moneta quella a cui tu hai dato il nome che ne so lira peso certo certo ma no ma scusami Michele ma ma scusa Michele allora alla gente siccome c'è il mitra letteralmente come Maduro gli dici ascolta tu c'hai un buono che ti diceva io ti ho messo dieci anni fa che diceva che ti avrei pagato un milione di lire boh ecco qua su questa roba c'è scritto un milione di lire e sono buoni fregatene con quel milione di lire adesso ti puoi comprare più un paio di scarpe mentre quando me le hai prestati tu potevi comprarti due case affari tuoi io non ho fatto questa è tutta la loro teoria punto è questo è quello che dico io è che non ci si può rifugiare dentro questa stupidaggine del fatto che non c'è un miss payment e quindi non c'è tecnicamente un default perché questo non vuol dire assolutamente nulla cioè non ha nessunissimo significato economico e quindi riferirsi alla frase di Draghi o di Greenspan che rispondono in maniera teorica a un problema teorico cioè è vero che un governo che stampa i soldi non fa mai default sotto quella definizione di default sì è vero ma questo lo dico anche io non c'ho bisogno di essere un memetaro no cioè il problema è chi se ne frega cioè non è quello il punto se no Venezuela Zimbabwe eccetera eccetera non sarebbero successi no ma l'Italia l'Italia eccetera eccetera l'Italia voglio dire una cosa Michele l'Italia da dal cinquant... dal 71 al 99 contro il Marco ha svalutato del 93% no? cioè sì non abbiamo fatto default ok però voglio dire e quindi? cioè il punto qual è aggiungo io per l'altra branca di fenomeni che sono quelli della svalutazione che aumenta la produttività cioè in quel frattempo non risulta che la Volkswagen sia sparita e ci sia solo la Fiat no? tra il 71 e il 99 allo stesso modo potremmo guardare Franco Svizzero Pound non è che la Nestlé è sparita e ci abbiamo la Cadbury che domina il mondo perché il Franco Svizzero si è svalutato della stessa si è rivalutato della stessa cifra contro la sterlina per cui tutta questa roba questa enfasi sulla moneta i cambi eccetera eccetera è proprio malposta cioè e lo dico da appassionato questa cosa l'abbiamo chiarita visto che abbiamo Emanuele qua che ci ha raggiunto e mi sembra non andare sì che magari si è rotto i coglioni allora Emanuele la parola a te non ci conosciamo ma presentiamoci sì io sono mi sentite? sì spero di non avere troppi problemi con l'audio sono Emanuele sono uno studente di ingegneria in realtà quindi purtroppo non mastico moltissimo l'economia però diciamo che seguendo i video Liberi Oltre e il professor Boldrin ho cercato di costruire un pensiero critico riguardante un po' questi discorsi insomma ormai anche a me appare chiaro un po' l'estrema fallaccia di questa teoria insomma si cade in una semplificazione che non può reggere no? che delusione io speravo che tu venissi a discutere no no ingegnere oh ingegnere è roba seria oh mica le cazzate che studio io no assolutamente però la mia domanda è prendi in realtà se posso fare la domanda perché no certo prendi in realtà lo spunto da da una cosa di cui forse si era già anche discusso cioè nel 2014 l'economista a favore della della MMT la Stephanie Kelton che viene nominata in carica come economista capo della commissione bilancio nel senato statunitense allora la mia domanda la mia domanda è chiaramente in un contesto come quello italiano non ha senso ma mi pongo insomma mi paro un po' dicendo che secondo me la risposta sarà no ma esistono dei contesti diversi da quello italiano in cui potrebbe essere sensato pensare a uno schema del genere magari a fronte di una posizione internazionale molto più forte o appunto una produttività molto meno problematica rispetto a quella del contesto italiano cioè in questo senso anche anche nella storia passata tu stai chiedendo cioè scusami se capisco bene tu stai chiedendo se esistono delle condizioni in cui quella roba lì vale sì condizioni reali non idea non le puoi specificare ecco è arrivata un'altra persona Davide Marco Corvino allora se vale la cosa consisterebbe se la MMT vale in qualche condizione siccome l'abbiamo già deciso no fermatevi faccio il moderatore siccome l'abbiamo deciso che la MMT cioè se vale la cosa consisterebbe se la MMT vale in qualche condizione qualcuno ritorni spegnete il microfono perché avete chi è collegato qui non stia chi è collegato qui spenga spenga la trasmissione su YouTube allora siccome la MMT è fatta di varie proposizioni tra cui quella che appunto il governo comprando beni e servizi e stampando moneta raggiunge la piena occupazione puoi specificare quale proposizione se vuoi ti do dei suggerimenti le elenco però io prevalentemente mi legherei al concetto dello stampare moneta come soluzione di fatto un po' come panacea di tutti i mali nel senso l'utilizzo pesante del fatto di stampare la moneta adesso io devo cercarmi termini ma insomma quello che era anche un po' l'idea del cartalismo no c'è in certi sensi il non so se mi sono spiegato la mia risposta no posso aggiungere una cosa mi sentite ti prego sì io volevo dire ecco intervenendo sullo stesso tema di Emanuele ricordo di aver letto recentemente un articolo di Schiller su New York Times che parlava appunto di MMT Schiller Nobel 2013 come sapete e diceva ok questa roba non ha molto senso però fino a un certo punto in certi tipi di economia come dice Emanuele potrebbe aver senso quindi di cosa parliamo parliamo magari dell'economia statunitense che ha una produttività diversa da quella italiana un tasso di disoccupazione basso un'inflazione non troppo elevata eccetera ci dice finché noi investiamo quindi facciamo investimenti pubblici in deficit spendiamo soldi con prendendoli a prestito sostanzialmente la gente compra il nostro debito pubblico e noi gli restituiamo tra 20-30 anni meno soldi di quelli che ci danno appunto tassi di interesse negativi e quant'altro se il nostro investimento pubblico diciamo ha dei tassi di rendimento superiori a quelli appunto di diciamo del tasso di interesse a cui ci indebitiamo allora a quel punto il diciamo figlio mio però però scusami scusami se ti interrompo intanto cioè se il tuo se la tua premessa è che i tassi a cui ti indebiti sono negativi devo presumere che almeno il tuo investimento abbia un ritorno di zero no? perché se no capisci cioè non puoi allora il tema di il male che vi ha fatto tutta questa roba scusa Michele se il male che fa tutta questa roba qua tipo la MMT è che vi fanno i mischioni no? per cui vi mettono insieme di tutto cioè mettono insieme politica fiscale politica monetaria eh i contratti cioè fino a dove arriva il perimetro dello Stato cosa deve decidere lo Stato quali investimenti cosa vuol dire strategico poi tu hai fatto adesso riferimento a un ritorno tu hai fatto un riferimento a un ritorno sull'investimento quindi lo Stato in questo schema è un competitor dei privati cioè lavora mettendo giù capitale con ritorno vi state perdendo no capisci no 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 è questo no non mi sto perdendo ti sto dicendo che tu nella domanda che hai fatto hai un mischione dentro di cose no che ma non lo dico per rimprovero no lo dico che sono tutte cose separate capisci cioè per esempio stampare moneta o emettere bonds può sembrare la stessa cosa beh non lo è assolutamente non lo è quindi scusami Michele ho finito ma quello che voglio dire è che ci sono per rispondere alla prima domanda ci sono delle condizioni cosiddette chiamate dagli economisti di slaco di recessione eccetera eccetera in cui politiche fiscali aggressive possono funzionare però sono scelte che come Michele dice poi devi valutare su un periodo molto lungo quindi sono scelte che hanno aumentato il PIL potenziale quindi poi il debito su PIL scende sì no perché anche Keynes non ha mai detto che il debito deve sempre salire mai ha detto fate deficit quando c'è recessione fate investimenti ma poi quando c'è quando c'è l'espansione deve rientrare tutto capisci per cui anche lì io voglio che mi facciano vedere anche i Keynesiani dove Keynes ha scritto che il debito può andare all'infinito perché non c'è da nessuna parte non c'è nessun soscritto quindi il tema è vi fanno fare confusione tra emissione di moneta stato che investe stato che taglia le tasse ma non è tutta la stessa roba non è un calderone unico poi vi dicono per esempio citano quegli altri della svalutazione dicono ma la Danimarca che c'è la sua moneta sì cazzo la Danimarca non svaluta dal 78 però capito? cioè non è che siccome la sua moneta svaluta il contrario capito? quindi c'è anche tu stai facendo mi schermo adesso faccio il cazzo no no lo so era per dire buono 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 cazzo allora provo a mettere in ordine la domanda di Emanuele e Davide vado per passetti e quando mi sbaglio cioè dico delle cose che voi non avete in mente mi fermate d'accordo? allora primo punto prendiamo un paese con le caratteristiche per esempio degli Stati Uniti ok gli Stati Uniti hanno un tasso di occupazione basso un debito pubblico alto inferiore al nostro in percentuale del PIL però bello alto ok un debito pubblico che di cui la gente ha fiducia se lo compra e pagano degli interessi ma bassi e lo rinfinanziano d'accordo? e poi hanno un'economia che diciamo soria sulla produttività questo e quello le aziende che vanno cioè 10.000 cose inutile che le mettiamo tutte assieme come un'economia chiamiamola solida che va d'accordo? allora voi dite sarebbe sensato se negli Stati Uniti facessero più di quanto hanno già fatto la seguente operazione il braccio quel braccio del governo degli Stati Uniti perché di fatto lo è chiamato Fed ok invece di dire io seguo una logica di politica monetaria mia smette di fare così ed obbedisce al desiderio del ministro del tesoro degli Stati Uniti il quale gli dice guarda io non voglio più emettere debito io voglio che adesso la mia spesa pubblica venga finanziata da te da te Fed ogni volta che devo pagare gli stipendi di dipendenti pubblici ogni volta che devo fare degli investimenti ogni volta che devo fare gli acquisti tu mi fai uno scoperto mi metti dei soldi nuovi sullo scoperto di conto corrente d'accordo mi metti dei soldi nuovi ok e io li uso per fare questi acquisti dai sommergibili alla corrente elettrica dalla dai pezzi di carta quello che volete voi e le pensioni io le pago tutti con queste robe che tu mi produci ok quindi così facendo smetto anche di tassare in maniera diretta d'accordo e mi finanzio tutte le mie spese con queste cose che tu mi metti sul conto corrente giusto ho interpretato giusto la domanda se posso io no intendevo non intendevo stampare moneta non è che la fed diventa un braccio più di quanto non sia già del governo ma intendevo il governo come fa già adesso emette debito pubblico e lo fa già adesso ha dei tassi di interesse ha dei certi tipi di tassi di interesse quello che dicono non quelli non diciamo i sostenitori dell'MMP ma chi li critica ma appunto condivide certe cose come facevo l'esempio di Schiller dice ok se noi emettiamo debito a un certo tasso e facciamo con quel debito con quei soldi che ci vengono dati degli investimenti strategici per strategici intendo le classiche cose istruzione spese in istruzione spese in infrastrutture non quota 100 e cose del genere se quegli investimenti lì hanno un tasso di rendimento quindi aumentano il PIL potenziale in maniera superiore al tasso a cui noi ci stiamo indebitando il rapporto debito PIL tra 5, 10, 15 anni perché sono investimenti strategici andrà a scendere anche se il nostro debito pubblico in termini assoluti andrà ad aumentare questo era quello che dicevano e io chiedevo appunto questa cosa qua si può fare o non si può fare me la devi spiegare di nuovo perché non ho mica capito cioè Schiller ha detto una cosa molto specifica ma cos'è che vuoi fare prendi dei soldi in prestito a tassi di interesse bassi quindi se riesci a finanziarti sul mercato a tassi bassi o addirittura negativi come potrebbe fare ma questo lo fanno già questo lo fanno già esatto con quei soldi che prendi in prestito fai degli investimenti pubblici che sono notoriamente diciamo almeno considerati aumentare il più potenziale come esempio investimenti scusami ma vedi perché vedi perché dicevo vedi perché mi dicevo che si mischiano le cose scusami se te lo dico ma tecnicamente quando tu emetti dei titoli di titolo di stato tu fai un'operazione che da un punto di vista monetario è di segno opposto a quello di stampare la moneta perché la dreni dal sistema quindi cioè il tema il tema per quello che vi dico vi ha fatto un male sta roba qui stipate racchioni che fanno cioè quello che tu stai proponendo è una ricetta diciamo così abbastanza tradizionalmente che ne si hanno cioè che il momento sia di recessione o non di recessione c'è un attore che è lo Stato che fa degli investimenti pubblici con degli orizzonti temporali magari diversi da quelli del settore privato e che quindi ha capacità di prendere a prestito i titoli più grandi del settore privato e quindi può permettersi delle robe che alcuni operatori privati da soli non potrebbero permettersi questo al di là poi del famoso moltiplicatore dell'investimento pubblico superiore a uno o non superiore a uno per cui è quello che fa salire o scendere il debito PIL quella è una cosa che già come diceva Michele e ho finito è già così più o meno tutti gli stati la fanno il nostro meno altri di più ma è già così no? non c'è una differenza è diventato mainstream anche quello no? da Keynes quindi quella è una cosa completamente diversa quasi diciamo così canonica non non è né estrema né eterodossa cioè è abbastanza ortodossa ma è una roba normale che poi ogni stato ha capacità di fare più o meno bene e si vede nel fatto che la crescita di PIL di certi paesi è più alta o più bassa di altri faccio l'ultimo esempio che faccio Michele tu gli ultimi cento anni lo guardavamo io e Thomas gli Stati Uniti e la Svezia sono cresciuti più o meno in maniera nominale e anche reale con lo stesso numero no? e sono due organizzazioni di due stati completamente diverse Grecia scusami Stati Uniti e Svezia no? in una c'è uno stato più presente il livello di tassazione è molto più alto l'altro no quindi non è che esista una ricetta cioè un buon economista ti risponde sempre dipende davanti a una domanda come la tua no? perché dipende cosa fai chi lo fa come lo fa no? per cui non esiste una risposta univoca su una domanda così no? ci sono organizzazioni istituzionali eccetera eccetera di stati di contratti eccetera che vanno bene a fare quella roba e altri no lo fai in Italia noi col debito pubblico che abbiamo avremmo dovuto avere uno stock di capitale con le autostrade che ti portano in gondola su Marte no? e invece non è così giusto? perché i soldi non li hanno usati per quella roba lì ad alto potenziale che dici tu ma lascio voglio venire all'elemento tecnico perché c'è un elemento forse anche per chi ci ascolta ma forse anche per per Davide Emanuele che vale la pena capire nel meccanismo attuale di creazione della moneta ok? vi sono diciamo così semplifico due stadi un primo stadio che inizia con la banca centrale che crea quella che chiamiamo high power money M0 base monetaria qui sono piccole distinzioni ma veramente secondarie cioè davvero credetemi non vale la pena e cioè cosa fa la Fed dice io emetto una possibilità che si chiama moneta cioè riserve la faccio mettendogli a fronte nel mio bilancio un'attività e cioè dico guardate mondo io sono indebitato per questi 100 milioni di dollari che ho emesso però non li ho emessi regalandoli e quindi perdendoli a fronte di quei 100 sono andato sul mercato e ho comprato delle attività cioè degli asset tipicamente tipicamente oggi le attività che la banca centrale compra e mette nel suo bilancio a fronte delle passività sono quelle che chiamiamo securities titoli in grande parte titoli di debito pubblico dello Stato suo ma anche di altri Stati e anche di privati nelle operazioni di politica monetaria fatte nell'ultimo decennio si sono comprati buoni mortgage bonds e cose altre che sono cosa quelle cose che compro sono delle promesse di altri soggetti imprese o Stato che raccoglie tasse che dice guarda io qua mi impegno a pagarti con delle risorse che ricaverò nel futuro ok dei valori della moneta che raccoglierò al tempo attraverso queste mie attività quindi fa esattamente la stessa cosa che fai tu o che fa la banca con te ok quando la banca ti fa credito per comprarti la casa ok quella è la fa credito a te quindi crea una passività perché si impegna di fornirti con tante diciamo così per andare a comprarti la casa però a fronte cosa ci mette ci mette da un lato proprio l'ipoteca sul valore della casa che esiste capisci e infatti tipicamente ti dice quella casa deve essere tua per una certa percentuale quindi che so io ti presto 300 però 100 ce li hai già che sono nella quota di casa che ti sei comprato gli altri 200 sono una passività tua e un'attività mia cioè è la tua promessa che ha valore legale che con il tuo reddito con i tuoi stipendi con i tuoi guadagni tu mi pagherai progressivamente negli anni il valore di quei 200 d'accordo ecco allora nel primo caso quello della banca centrale fa così e crea la moneta chiamiamola M0 nel secondo caso poi nel terzo la cosa si può ampliare le banche commerciali o le banche in generale creano moneta bancaria ok è la grande quantità della moneta che si utilizza se volete vado sul sito di Fred vi mostro la differenza che c'è tra la quantità di M0 in giro e la quantità di questa altra roba che include M0 ma anche extra anche la moneta emessa dalle banche chiamiamo M1 M2 M3 perché perché distinguiamo i loro diversi livelli di liquidità ci sono i conti corretti ci sono una volta c'erano i traveler's check ci sono i depositi a risparmio ci sono i money market account ci sono tante altre robe adesso di nuovo non voglio andare troppo d'accordo ecco così avviene oggi la creazione di questi differenti tipi di moneta che sono più o meno fra loro sostituibili infatti se notate quando c'è paura per esempio quando la banca X che ha emesso moneta perché ha dei crediti fatti quindi ha della moneta che ha introdotto nel sistema va in crisi per qualsiasi ragione perché magari ha fatto prestiti chiaccazzo giusto gli assegni le promesse di pagamento di quella banca non se li accetta più nessuno no quella banca va lì e dice ma io vorrei pagare con questo mio scoperto no no guardi non mi fido perché a occhio e croce lei va in fallimento d'accordo ok quindi questo è il meccanismo il meccanismo alternativo è un meccanismo che è dubbio che possa funzionare alla grande perché in cosa consisterebbe in quel meccanismo voi capite che la banca centrale se facesse la cosa che avete detto che avete suggerito non utilizzerebbe più la nuova moneta creata per darci a comprare delle attività giusto la regalerebbe allo Stato il quale a sua volta con questa comprerebbe bene i servizi che consuma ma quei beni e servizi che consuma non finirebbero nell'attivo della banca centrale né dello Stato perché se li consuma che so per esempio paga pensioni a quel punto quando ha pagato pensioni addio patria sono andati e quindi a quel punto quella moneta circolerebbe ok in maniera totalmente fiduciaria nel senso che la gente la accetta se solo se ok è disposta a credere ed è convinta che tutti quanti la accetteranno per sempre a un dato valore di mercato ora sia chiaro questo secondo meccanismo tra l'altro non è specifico di MMT esistono decine di paper centinaia di paper negli ultimi 40 anni che studiano esattamente modelli si tenta di modellizzare no la creazione di questo tipo di moneta con varie teorie modelli argomenti search alcuni dicono la moneta è un sanspo cioè una credenza no tutta finché tutti siamo d'accordo che è buona quella robina gialla prendiamo quella robina gialla poi per caso salta la fiducia in quella robina gialla e se ne va la robina gialla nessuno la vuole più ok questa è la grande differenza mi fermo qui spero di aver io provo a dirvela una volta mi hanno portato in un liceo ho cercato di spiegare un po' la moneta cerco di spiegarla così e si attacca proprio all'MMT fino a quando la moneta era convertibile in oro diciamo la moneta valeva per tanto oro argento eccetera eccetera che quanto aveva dentro a un certo punto diciamo così siccome è scomodo andare in giro con le tonnellate d'oro prima alcuni banchieri fiorentini creano le famose lettere di credito e poi a un certo punto nei tempi moderni si passa a una moneta diciamo così stampata su dei pezzi di carta che hanno sopra scritto un numero allora che cosa fa questa roba qui questa roba qui è una passività dello Stato finanziaria esigibile a prima richiesta cioè tu con quel pezzo di carta con su scritto un numero puoi estinguere le obbligazioni che hai e con lo Stato e con altri agenti e lo Stato cosa fa quando stampa quella roba lì quei pezzi di carta si impegna a stampare in una quantità la più piccola possibile perché come tutti i beni se aumenta la circolazione di quei beni ne perde il valore l'MMT cosa ti dice quando ho un problema stampo ora indovina uno mi chiede lì cosa vuol dire debasare la moneta vuol dire quello che sto dicendo vuol dire che non è che è un caso no che lo Stato stampi il 2% all'anno in più di quella famosa M0 I Powerful Money che dice Michele che sono fondamentalmente facciamo finta che sono i biglietti no o le monete facciamo finta che Powerful Money è o biglietti o monete perché lo Stato ne stampa solo il 2% e non il 10% il 20% in più all'anno vi dico che cosa segue perché il 2 o il 2 e mezzo o l'1 e 8 o il 3 e 2 perché perché facciamo finta che io il PIL dell'Italia ha i 12 bottiglie e lo Stato al tempo T0 quando si producono le 12 bottiglie ha stampa ok 240 talleri quindi ogni bottiglia siccome ci sono 240 talleri e ci sono 12 bottiglie costa 20 talleri ok l'anno dopo il PIL sale e da 12 bottiglie si fanno 13 bottiglie ma lo Stato invece che stampare 20 talleri in più stabilità dei prezzi perché da 20 si passa sempre a 20 non stampa 20 talleri in più da 240 talleri che c'erano l'anno prima lo Stato ne stampa altri 320 e quindi ci sono 560 talleri ogni bottiglia costerà 30 talleri in frazione 50 ho cercato di spiegarvi che la moneta high powerful quella che dice Michele segue più o meno dovrebbe seguire per essere sound money come la chiamiamo noi la crescita dei PIL reale dei PIL altrimenti cosa rischi rischi fenomeni inflattivi e alla lunga con i fenomeni inflattivi cosa fai debasi il valore della moneta rispetto alle come diceva Michele all'inizio con un milione prima ti compravi la casa adesso ti compri un paio di scarpe ora il tema proprio fondamentale di questa roba qui è che siccome tutto questo meccanismo è basato su la storia di un paese come sono andate le cose eccetera eccetera una volta come si dice sempre che tu hai fatto uscire il dentifricio dal tubetto e hai detto che hai tacato a stampare per risolverti il problema è molto difficile recuperare la fiducia degli investitori sul valore della tua moneta e quindi cosa succede succede che come mi ha chiesto qualcuno perché l'argentina è fallita perché ha emesso in dollari sì ma non è che ha emesso in dollari perché gli andava così ha emesso in dollari perché la gente aveva così poca fiducia nel valore della moneta del peso che non poteva che emettere in un'altra valuta perché i bonds in peso non gli avrebbe sottoscritti nessuno se non a dei tassi del 50% che tengono conto del fatto che l'anno dopo la tua moneta vale il 50% in meno e quindi tu pretendi di essere pagato per la svalutazione che subirai questo è il punto non è che gli stati che falliscono per il debito estero falliscano per il debito estero per sfizio falliscano per il debito estero perché non riescono più a emettere la propria valuta e se continuano a fare quelle politiche monetarie come quelle che dice le MMT come diciamo mimicano quelli della MMT tu salti in aria perché a un certo punto ti finiscono le riserve valuta anche se sei un grande paese esportatore e tu non eri più il debito nel tuo né quello estero cioè spero di essere stato più semplice possibile e spero di essere stato più chiaro possibile su questa cosa qua che non è una cosa difficile no la moneta in fondo ha un valore perché lo Stato ha e anche i bonds dello Stato in quel caso lì che cosa ha ha il potere di diciamo fare esazione delle tasse per cui tutta questa roba si tiene in piedi se i PIL crescono più o meno e ovviamente tutti gli attivi per il settore privato hanno un valore perché c'è un paese che sta in piedi ma se tu attacchi a minare dalle dalle fondamenta il valore contrattuale di un bene perché ne metti in circolazione troppo cioè salta la baracca questo è il tema no e lo stesso vale per le svalutazioni e per tutte le altre trick play che questi qui si immaginano che esistono ma che non esistono ecco scusatemi sì certo correggetemi se sbaglio vado a memoria mi pare che la BCE targettizzi l'inflazione su M3 e che allora questa è una cosa molto più tecnica guarda se vuoi con Michele abbiamo riso tanto su queste cose qua Michele non hai il microfono Michele non hai il microfono no volevo dire vai avanti dillo M3 poi abbiamo ma comunque in teoria diciamo è stato abbastanza correlato con l'inflazione fino alla crisi del 2008 poi i due valori sono disgiunti e di fatto M3 non è stato più correlato con l'inflazione ecco di fatto la BCE continua diciamo a stampare moneta cioè collezioni di quantità di easing e quant'altro ma questo è il punto no no fermati là scusami cosa fa la BCE quando compra un titolo di stato ok perché non come non come quelli che mi hanno detto questi qua dell'MMT che io dico che QE è uguale stampa il contrario perché QE non è stampa fammiti spiegare come funziona scusa Michele io sono la BCE compro un titolo di stato da la Boldrin Bank ok la Boldrin Bank per comprare il titolo di stato ricordati sempre ha cacciato del grano ok quindi ha pagato 100 euro ok e ha ricevuto 100 euro equivalenti in BTP io cosa faccio faccio l'operazione inversa parto da Boldrin e gli ricompro il titolo di stato con i 100 euro che Boldrin aveva accreditato al conto del tesoro perché aveva comprato il BTP dal tesoro ok quindi il tesoro cosa ha fatto ha sequestrato 100 euro di Boldrin dal sistema giusto li ha levati se li ha accreditati sul suo conto e ha emesso 100 quindi ha scambiato moneta con un'attività che è quasi moneta ma non è moneta perché non può venire usata per pagare le caramelle con un BTP non ci paghi le caramelle ok io cosa faccio ICB il contrario vado a Boldrin gli dico mi dai 100 euro di BTP e rimetto moneta ok e mi compro il BTP quindi a questo punto cosa succede il Boldrin si trova riaccreditati 100 euro nel conto corrente che aveva prima di comprare il BTP io ICB ho il BTP il tesoro è come prima no giusto quando scade quel BTP che succede che il tesoro cosa fa emette altri 100 euro di BTP giusto perché quando scade un titolo di Stato cosa fa il tesoro riemette un titolo di Stato nuovo ok quindi scadono i 100 euro di BTP il tesoro mi ridà i 100 euro che si era tenuto ma riemette nello stesso momento altri 100 euro di BTP e rissequestra e rissequestra 100 euro invece che da me da lui no ma il sistema sta a zero non è stato creato niente ok è una roba in cui il tesoro sequestra moneta temporaneamente la riemetterà quando per un secondo e mezzo quando scade il titolo di Stato prima che riemetta l'altro se poi non lo riemette è un altro discorso dopodiché l'ICB cosa fa non è che l'ICB compra il BTP da Boldrin e quando scade il BTP lascia fuori i 100 euro che aveva dato a Boldrin no perché è il tesoro che li rissequestrerà emettendo un nuovo BTP quindi il QE non è stampa quello che distingue la stampa dal QE è la temporaneità ok cioè quelle cose che si fanno col QE di immettere moneta contro attività quasi moneta che sono i BTP in maniera temporanea finché il BTP non scadrà che è la stessa identica cosa che fai tu quando compri una casa o la vendi nel senso quando tu compri una casa ok uno è vero tu gli dai 100 euro a lui e tu ti tieni la casa il sistema aveva 100 euro sul tuo conto corrente ce ne avrà 100 euro sul suo conto corrente quindi è rimasto uguale come era prima si è solo girato un 100 euro da una parte all'altra ma quello là quando ha comprato la casa anche lui aveva speso 80 euro facciamo finta e aveva accreditato 80 euro a qualcuno la moneta non è mai cambiata la quantità di moneta non è mai power money non è mai cambiata ok questo che non capiscono questi signori quando dicono Q è uguale stampare non è così non è così cerco di raccontarlo per i più tecnici la cosa che ha appena spiegato giustamente Gianluca è una delle maniere in cui c'era un vecchio uno delle prime persone da cui ho imparato la teoria monetaria seriamente quando avevo 27 28 anni fondamentalmente da tre persone me l'hanno insegnata uno si chiama Peter Garber che poi per molti anni è stato il super chief world economist di Deutsche Bank ok un altro che si chiama Carl Brunner che ha fatto un vecchio signore che era venuto a Rochester e Robert Butler Brunner è uno che ha contribuito ha fatto capire che molte operazioni di mercato aperto di cui il QI è semplicemente una variante il fatto che stampino non stampino moneta dipende dal fatto che poi si faccia o non si faccia la sterilizzazione di questa extra moneta e soprattutto dal fatto che le riserve che si crea quando si fa un'operazione di entrata non vengono usate dalle banche per fare ulteriore credito alle persone di per sé quello che il QI fa tecnicamente è cambiare la struttura di portafoglio delle banche eh sì non è una cosa inessenziale voi pensate cosa vuol dire struttura di portafoglio una banca che ha depositi conti correnti di risparmio eccetera eccetera e anche si indebita a volte con delle sue obbligazioni perché vuole avere più liquidità quelle sono le sue passività sto parlando di una banca privata privata ma una banca ok nelle attività ha quello che si chiama il portafoglio cioè le robe dove ha investito queste risorse che sono contanti perché si tiene anche contanti cioè riserve contanti facciamo finta che la stessa roba sono davvero diventiamo scemi con i tecnici e poi ha vari titoli oltre a tra i titoli ci sono anche i prestiti a Mario che ha il negozio di frutti vendolo eh oppure c'è che ha comprato che ne so obbligazioni trentennali emesse da Exxon Corporation quello che è questa è una certa struttura quella struttura è rilevante perché determina sia il rischio che la banca affronta alcuni di quegli investimenti sono meno rischiosi di altri sia come dire il flusso di pagamenti che riceverà nel tempo perché ognuno di questi affari su cui investito gli frutterà degli interessi delle restituzioni di capitali dei profitti dei non profitti la banca centrale quando fa cui o comunque cooperazione di mercato ritiene che possa essere conveniente se volete possiamo discutere gli argomenti i modelli le logiche attraverso cui le banche centrali determinano determinano e non è che fanno sempre giusto infatti per questo si discute determinano che cambiare con le loro operazioni di mercato aperto quella struttura del portafoglio delle banche commerciali possa far del bene nel sistema economico reale possa fondamentalmente creare più occupazione più crescita più stabilità e quindi gli dice ascolta prenditi contante dammi BTP che scadono fra sette anni con le emissioni lì oppure perché va sul mercato e sceglie la banca cosa comprare siccome tra l'altro lo fa anonimamente non è che tu lo sai tu unicredit tu società general quello che è che quando c'è quello che ti vuole comprare delle robe che hai in portafoglio è la banca centrale è uno che te lo vuole comprare potrebbe essere devo dire devo dire devo dire onestamente ultimamente per i QI le banche centrali per le banche centrali le banche centrali il QI l'hanno annunciato hanno detto esattamente cosa avrebbero comprato è frutto di tutto un dibattito è appena morto il mio amico Marvin Goodfriend che era un professore a Carnegie che ho conosciuto appena arrivato in America perché era il Moroso era giovane nel tempo ma era un po' più vecchio di me ed era il Moroso mi accompagna in classe e quindi ho conosciuto Marvin Marvin è uno che ha contribuito tantissimo al dibattito negli anni 80 e 90 per convincere le banche centrali che invece di operare con segretezza come avevano sempre fatto le operazioni qua era meglio per l'economia per i mercati per le aspettative dirlo tutta una roba francamente un po' complicata però scusa Michele mentre parli volevo far vedere una cosa hanno detto di più hanno fatto di più mentre parli volevo far vedere plasticamente quello che cercavo di spiegare prima lì vedete la Fed ha fatto ha comprato quello lì è quando cominciano a scadere e la Fed non compra più quindi il bilancio della Fed si riduce perché la Fed aveva i titoli di Stato dopodiché smette di comprare poi adesso questo è vecchio il grafico ma serve come esemplificazione adesso è ripartito una roba che per loro non è QI ma è sui RIP vabbè non importa però come vedi cosa succede che il bilancio della Fed riscende quando non comprano più ma non è che quei titoli sono spariti li ha rimessi lo Stato li ha riemessi il tesoro americano e li ha comprati i Boldrin non ce l'ha più la Fed questo è perché la Fed non ha stampato capisci perché quando scadono i titoli di Stato che ha in portafoglio la Fed non è che rimane fuori della moneta che la Fed aveva immesso elettronicamente per comprare i titoli di Stato quella moneta è servita a risottoscrivere tutto questo pezzo qui che scade da parte di chi aveva avuto i titoli comprati prima facciamo finta che ci sia un agente unico contro la Fed che ce l'hai tutti tu Davide i titoli di Stato la Fed li compra tutti poi quando scadono siccome la Fed dal 2018 non compra più ti tocca ricomprarli a te altrimenti lo Stato americano non c'è i soldi per pagare i dipendenti quindi cosa fai che quel pezzo che scende te lo ricompri tutto tu e la Fed rissequestra la moneta che ti aveva dato ok questa è la differenza abissale tra stampare e far QE capito te l'ho fatto proprio vedere com'è quello della Fed ok di come è andato il QE americano proprio quindi cioè scusami amiche che ti ho interrotto era per far vederlo plasticamente cosa succede perché non è stampare altrimenti la quantità di moneta se non fosse così allora sì hai stampato nel senso lo Stato cosa fa non riemette più il titolo di Stato e lascia fuori una passività diversa che è la moneta che ha emesso la Banca Centrale per suo conto ok quindi ha switchato completamente passività cioè da titolo di Stato è andata in M0 chiamiamola per semplicità in biglietti da 1000 dollari ok questa è la differenza lì non è successo è per quello che non c'è stata inflazione nonostante il QE semplicemente perché lo stampaggio e il sequestro di moneta sono cose temporanee no non modificano le aspettative di lungo termine perché è come se facessi un cosiddetto pronti contro termine lungo magari ma è un pronti termine mi dai dei soldi io ti do un titolo mi dai un titolo ti do dei soldi ma poi non è finita lì scusa Michele ti ho interrotto no 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 io volevo solo spiegare questa cosa a chi ci ascolta e anche le persone che sono qui con noi andiamo avanti andiamo avanti perché a me va bene è chiamata una nuova persona che non vediamo non so chi sia però non importa Fabio Calonacci Fabio sì poi dopo vedo che Ernesto vedo che Ernesto che è lì che dice che poi la Fed ha questo privilegio di stampare dollari eccetera eccetera che è la valuta di riserva internazionale sì ha importanza ma neanche tanto perché voglio dire anche se loro vedete possiamo tornare sulla Fed sulle dollari sì sì guardavo su YouTube ha importanza questa menata della valuta di riserva però mica tanto nel senso che se la Fed non programmasse di risolversi il QE e finirlo e riemettere quei titoli da parte dello Stato sequestrando la moneta dal settore privato che lei la moneta che lei ha emesso nel settore privato quando ha fatto più se la Fed non lo facesse anche se il dollaro è valuta di riserva si prenderebbe una martellata boh dipende questo possiamo discutere ma tanto è un caso unico che si deve a milioni di robe fra cui soprattutto l'esercito la forza militare eccetera eccetera la valuta di riserva certo certo va bene se volete ci andiamo io parlavo parlavo di un momento in cui non è che paraggi per favore restiamo beh restiamo lì Fabio vuoi dirci qualcosa voi due Davide e Manuela seguite il link scusate sono al lavoro quindi non posso va bene semplicemente va bene allora no sì certo perché però a me a quel punto sorge una domanda relativamente al quantitative easing cioè a quel punto però non diventa semplicemente un posticipare il problema cioè nel senso se tanto alla fine per rimanere nella metafora la banca centrale europea compra i titoli del della da Boldrini eccetera eccetera ma poi Boldrini deve ricomprare quando vengono riemessi dallo Stato ma certo cioè alla fine ma infatti guarda allora Michele chi glielo dice di noi due quanto siamo contrari a un quantitative easing di sette anni chi è che inizia a sparare sull'ICB no allora lasciatemi lascia che ti dica però non è vero che è sempre necessariamente così di nuovo capisci è per questo che questi sono argomenti su cui occorre discutere con estrema pacatezza stando molto attenti e su cui centinaia migliaia di economisti intorno al mondo discutono continuamente spaccandosi la testa io credo nella grande maggioranza in buona io sono anche uno che si annoia a queste cose qua perché hanno francamente come sono un teorico sono nato così e mi interessa capire i sistemi dopo un po' mi rompo francamente i testicoli infatti ho smesso di fare il consulente della riserva federale che dopo l'ho fatto per quanto tantissimo dal 96 al 2015 quindi quasi 20 anni perché era una noia tanto poi insomma c'era una noia ok comunque detto questo non è vero che siccome è temporaneo possa non servire nel senso che ti spiego le ragioni per cui potrebbe servire e poi le ragioni per cui ma quelle forse le abbiamo dette più volte sia Gianluca che io che anche gli altri per cui può fare da quali sono le ragioni in cui può servire beh quella del 2008 2009 è una classica situazione in cui potrebbe servire quella dell'11 10 fine 10 11 12 in Europa perché perché cos'hai hai le banche che per ragioni se volete le discutiamo le sapete quello che è successo fondamentalmente nel caso americano un'enorme quantità di investimenti di real estate di prestiti fatti per finanziarli si scoprì che avevano costruito case a cazzo pensando di venderle a x invece potevano venderle a x meno diviso 2 e quindi era tutti questi investimenti che erano nel lato attivo di tante banche che non valevano più una pipa quelle banche a quel punto non valevano più una pipa senza capitale e quindi non potevano più prestare soldi neanche a chi avesse attività buone da fare quando le banche si paralizzano così non hanno più capacità per ragioni di questo tipo di prestare soldi a chi ha attività buone da fare l'economia si ferma la super recessione che avvenne tra la fine del 2008 e la metà del 2009 fu causata da questo vi fu una paralisi vera panico dell'intero sistema creditizio non prestava più soldi a nessuno neanche a uno che fosse quindi le aziende che avevano liquidità loro andavano quelle super duper avevano il minimo e tantissime si trovarono ad andare in banca a dire ma scome ma cazzo mi fai noi goccia non ce n'è non riesco a rifinare il mercato cosiddetto interbancario allora a quel punto cosa succede succede che Gianluca è la banca centrale io sono che so city bank io dico fondamentalmente Gianluca mi guarda e dice Michele ma hai investimenti buoni a fare pensi buoni a fare sì ma non li posso fare perché ho tutti gli asset che il mercato li valuta a metà di quello che io ce li ho sul libro i conti correntisti mi stanno portando via i conti correnti nessuno mi presta liquidità e io non posso prestare a nessuno perché ho poco capitale e non ho liquidità allora lui dice ascolta secondo me tre quarti di quegli asset che hai sono temporaneamente a 50 invece che 100 perché sono buoni investimenti te li compro io non te li compro né a 100 né a 50 te li compro a 70 adesso ragazzi faccio numeri e ti do liquidità siccome di me si fidano dei miei marines si fidano del fatto che noi siamo solidi c'è lo Stato americano si fidano tu hai dollari a quel punto resta quelli e non sei più fallito questo fu ok lo fecero e nonostante questo ci fu il lambaradan che ci fu però la Fed su questo eravamo tutti d'accordo a quel tempo che mi riunivo che andava fatto forse andava fatto meglio adesso adesso stai lo stesso avvenne a causa della crisi greca nel caso europeo allora l'intervento temporale ovviamente serve perché eviti il crollo capisci le cose stanno in piedi le aziende non chiudono dopo passata la buriana passata la tragedia una volta che hai scoperto che la Fed ha fatto degli affari stupendi capito cioè il mondo è pieno di investment banker o anche di semplici Michele Boldrina che dicono porca loca se compravo io anche indebitandomi se avessi avuto due milioni da investire in queste robe di stress a fine 2008 e inizio 2009 adesso mi valevano il doppio il triplo infatti la Fed ha fatto profitti a go go nelle sue operazioni fatte in quegli anni d'accordo perché ha comprato che so a 70 adesso vende tranquillamente a 100 tutti questi investimenti sono andati alla fine bene hanno recuperato lo stesso anche abbastanza per la banca cittadina europea anche se meno anche se meno anche se meno perché l'economia europea macchia di leoparto alcune cose sono riprese altre no capisci quindi l'intervento temporaneo in situazioni di tensione per carità cioè credo che chiunque che capisca un minimo di economia monetaria e bancaria lo dice subito assolutamente ora la vera distinzione lì dove passa e mi fermo con questa osservazione passa fra dare liquidità dove c'è una situazione di illiquidità ma non darla dove c'è insolvenza quindi è inutile che una banca fallita per davvero perché davvero gli investimenti sono tutti a pancia all'aria tu gli dai soldini e ti prendi gli investimenti che fanno schifo perché in questa maniera stai tassando i cittadini dai soldi buoni in cambio di titoli cattivi il primo punto e lì diventa c'è tutta una letteratura che comincia da Baghe o dall'Inghilterra del 1800 a discutere come diavolo fai a separare l'uno dall'altro e non è una roba facile e l'altra qual è? l'altra è continuare a farlo all'infinito anche quando la situazione di drammaticità è passata perché pensi che continuando a dare liquidità questi qua presteranno a chissà che investimenti che non ci sono è quello che è successo che ha in mente Gianluca negli ultimi anni tu hai continuato a fare quanti te rivisi quanti te rivisi dicendo dammi i titoli ti do liquidità ma loro non prestavano a nessuno perché non prestavano a nessuno? perché non c'era nessuno che meritasse di prestare perché c'è un po' di economia reale di produttività di investimento che la banca non può solo risolvere ho finito allora cerco di dirvi una cosa perché questa è la cosa che forse ho studiato meglio di tutte nella vita allora la differenza di reazioni della funzione di reazione dipende tantissimo dal quadro legislativo negli Stati Uniti Tesoro Fed e Federal Deposit Insurance FDIC hanno dei poteri sulle banche che in Europa quando esplode la crisi nel 2011 non sono così codificati nella stessa maniera anche perché se voi ci pensate l'euro è un sistema dove sopravvivono le banche centrali nazionali l'ICB può fare alcune cose le può fare su delle banche sopra certe soglie non sotto delle altre tutta la regulation è voluta dal 2011 in poi proprio per la crisi anche tutte le istituzioni tipo ISM IFSF Single Resolution Board eccetera eccetera sono stati creati dopo in Europa mentre in America cosa succede? che quando c'è la crisi di liquidità che c'è fondamentalmente perché c'è una crisi di fiducia tra banche e quindi c'è il cosiddetto run on deposit sul mercato interbancario cioè le banche cominciano non prestarsi più i soldi per le ragioni che ha detto Michele che sono fondamentalmente di una crisi su real estate che rende i liquidi una grandissima parte degli asset delle banche americane cosa succede? che la banca centrale americana la Fed da prima prova a fare una roba tipo il QE che si chiamano TARP per cui dicono mettiamo 700 miliardi per comprare gli attivi delle banche dopodiché Kashkari e gli altri si accorgono dell'errore perché è un errore e dicono e fanno un'altra cosa decidono di ricapitalizzare le banche americane con delle preferred shares messe dal tesoro che entra quasi in quasi tutte le banche americane meno forse Goldman Sachs dove entrò Buffett e entrando nelle banche americane con anche un limitato a montare di 10-20 miliardi di dollari mette una linea sulla sabbia e praticamente attrae il merito di credito delle banche americane a quello del tesoro americano e quindi dice va bene ok qui non si passa più ok il capitale che c'è bisogno per le banche lo mettiamo noi allora il tema qual è temporaneamente ovviamente perché poi le banche le hanno rimborsate queste preferred shares allora il tema qual è che perché e l'America in quattro trimestri esce dalla recessione perché perché il sistema bancario il canale bancario ricapitalizzato in questa maniera quindi riacquisisce la possibilità di erogare credito ora perché non funziona col QE il QE a cosa serve serve in un momento in cui il mercato va in una situazione di liquidità come diceva Michele che può trasformarsi in insolvenza no siccome non riesco a vendere più niente non passo l'overnight non riesco a pagare le mie duties overnight allora cosa succede all'inizio si fa QE cioè arriva la banca centrale a fare il prestatore di ultime istanze e dice benissimo avete da vendere compro io ok questo però va bene nelle situazioni di crisi ma non può durare dieci anni nei quali il PIL ha fatto anche il due e mezzo il tre eccetera eccetera no perché non serve perché cosa sto facendo io sto dando per lo stesso modo che vi spiegavo prima sto dando soldi diciamo contro titoli di Stato ma la possibilità di erogare credito per una banca non dipende solo ed unicamente da liquidità dipende dal capitale della banca perché c'è una regulation che ti dice che tu per fare i prestiti devi avere un tot di capitale ok e quindi la banca centrale europea sulla scuola di quella fatta dal Giappone come prova a ricapitalizzare le banche perché non ha neanche il potere legislativo di forzare delle ricapitalizzazioni ce l'ha avuto dopo il 2012 no escono gli SREP level ogni semestre e ti dicono tu devi avere l'11% il 12% il 13% allora cosa fa la banca centrale che non ha quegli strumenti che hanno negli Stati Uniti cerca di far guadagnare alle banche di far generare alle banche del capitale sulle curve dei bonds cioè gli attacca a comprare tutti gli attivi che può per fargli fare dei capital gain sulle posizioni in bonds che hanno le banche che se non vengono distribuiti dopo aver pagato le tasse come dividendi servono a aumentare il capitale delle banche quindi si fa una specie di ricapitalizzazione su rettizia delle banche europee attraverso gli utili che le banche europee conseguono ok vendendo tutti i titoli di Stato e gli altri attivi che senza liquidità non avrebbero potuto vendere ok è una via molto lunga molto contorta che infatti fa uscire la recessione l'Europa dalla recessione non in quattro quarter ma in cinque anni nel senso che l'Europa recupera i livelli di PIL del 2011 nel 2016 e l'Italia ancora non li ha recuperati parlo dell'Europa ex Italia più o meno qui è un problema istituzionale l'Europa non era pronta non aveva le istituzioni adesso le sta facendo l'ISM di cui avete visto discutere ha un braccio che serve a prestare i soldi alle banche in crisi quando ci fu la crisi bancaria addirittura alla Spagna prestarono 40 miliardi al sistema bancario spagnolo ma passando dallo Stato non hanno potuto prestarli direttamente alle banche lo stesso è avvenuto in Irlanda eccetera eccetera quindi il tema è il QI come diceva Michele va bene per risolvere una situazione di emergenza ma non può essere uno strumento di policy perché la domanda di credito dipende scusate il credito dipende primo dalla domanda di credito secondo dall'offerta di credito e l'offerta di credito non dipende dalla liquidità che hanno le banche dipende anche dal capitale che hanno le banche no? ci siamo capiti cioè abbastanza chiaro il suo Stato spero quindi per quello gli americani dopo aver fatto il TARP cioè il QI loro per 12 secondi cosa fanno? ricapitalizzano le banche poi dopo hanno cominciato allo stesso a comprare a fare QI sui titoli di Stato ma più per agire su altri canali il forex i tassi eccetera eccetera ma le banche li ricapitalizzano subito perché la liquidità e le riserve bancarie sono molto lontane nella piramide del credito da quello che serve a erogare credito ok? cioè non basta che io ho il cash per erogare credito c'è una regulation che mi dice che devo avere il 10% di capitale sui risk-weighted asset se non ce l'ho posso avere tutti gli asset più liquidi del mondo non posso fare i prestiti ok? se non c'ho quel 10% di capitale non posso fare i prestiti anche se ho tutto cash dall'altra parte non lo posso fare ok? io prenderei sono arrivato anche delle altre persone proviamo a lasciare la parola per gli altri Luca Vincenzo Luca sì buonasera mi sentite? sono mi sentite? sì sono di Bartolo mi chiedevo sono arrivato da poco quindi non so se ne avete già parlato ma avete pensato che queste persone comunque che sostengono modern monetary theory eccetera potrebbero tranquillamente essere completamente consci della insensatezza anche delle loro teorie e farlo per vendere perché il complottismo in sostanza noi sappiamo che vende sempre di più della semplice verità può almeno osti sei andato via Luca ma sei andato via però abbiamo capito e può essere guarda c'è una componente di questo tipo almeno può darsi può darsi però può darsi seguire queste cose sì non può darsi comunque tutto quello che volevo dire può darsi però Michele scusami io ti leggo una cosa adesso tu me la commenti leggo una cosa dell'articolo di critica perché altrimenti cerchiamo di razionalizzare una cosa che razionale non è no no abbiamo capito Luca adesso io chiedo a Michele Michele giudica tu vi leggo un pezzo dell'articolo che critica il mio articolo no che dice che il mio articolo spiega la MMT come una teoria unicamente monetaria I'm sorry ma lo è cioè nel senso dice che io sono associato al tipico problema teoria mainstream eccetera eccetera una serie di parole inutili francamente e a un certo punto dice Michele scusami dammi retta un secondo perché ho bisogno di sostegno ho ascoltato dice che l'idea che la banca centrale sia in grado di determinare e controllare direttamente o indirettamente l'offerta di moneta rappresenta uno di quei mostri concettuali della teoria economica mainstream che tutta una serie di evidenze empiriche di autori legati a quella che si definisce come teoria della moneta indogena hanno da tempo rigettato e smentito così come ha sin dall'inizio fatto la MMT per approfondimenti si vede da Minsky Caldor Moor Full Will Reverei eccetera eccetera così come sono state da sempre rigettate l'idea che la quantità o d'offerta di moneta in circolazione sia perfettamente proporzionale al flusso di spesa totale o al livello totale della spesa domande in un'economia in aggiunta all'idea parimente rigettata secondo la quale l'inflazione è sempre comunque un fenomeno monetario legato cioè alla stampa di moneta o quantità di moneta in circolazione qualsiasi cosa adesso voglia dire ma tu hai capito che cazzo ha detto questo qua perché io non ho capito cioè scusa mi dice insensato lasciamo stare gli abbiamo invitati a spiegarsi l'errore l'hanno fatto e lo dico pubblicamente l'hanno fatto buona fede i giornalisti che pubblicano i giornali italiani ma ormai non sono gli unici anzi i ragazzi che fanno economia sono delle brave persone ci provano dovrebbero imparare a separare le cose prive di senso dalle cose che hanno meno di senso scusa Michele scusami sono tutte cazzate dai non torniamoci più sono cazzate no ma no scusi siccome no no ma c'era un dente no un dente però logico te lo devi levare cioè questo dicono la vacca centrale facciamo attenzione alla gente che c'è qua la gente che dice cose incoerenti dice cose incoerenti sono ignoranti e non lo sanno fine cioè inutile discutere con la montagna di merda ci ho provato io diciamo di cose serie Davide faccio un'ultima domanda poi purtroppo vi devo lasciare so già che farò mettere le mani nei capelli a Gianluca volevo chiedere come ultima cosa sempre parlando di politiche monetarie non convenzionali un commento sul sul paper che è uscito quest'estate a firma di Fisher di BlackRock sul sull'elicopter money l'aumento di monetaria e quant'altro grazie Gesù guarda io ti dico una cosa scusami in Giappone forse sono stati i primi quanti anni è che va avanti Michele 30 più di 30 anni no sta roba qua del QI compro le azioni compro mia zia è successo qualcosa niente zombificato tutto cioè il problema io sono a me piace tanto questa cosa della moneta ma è come dice Michele dopo un po' ti rompi i coglioni perché tanto cioè è neutrale capito puoi fare dei danni ecco ok puoi comprare del tempo se la usi bene la politica monetaria ma non cambia l'economia reale cioè l'economia reale cambia per tutta un'altra serie di cose il design istituzionale cambia per una serie di altre cose no il fatto che ci siano degli imprenditori non ci siano che ci sia uno stato efficiente che non ci sia cioè cambia per tutte delle altre ragioni l'economia reale no con la moneta puoi fare accompagnare questa cosa oppure non accompagnarla e far dei danni ma non è che la fai andare così con la moneta e questo secondo me il problema logico dell'MMT no cioè che loro riducono tutto la leva dalla policy a quello poi ti dicono che c'è il sistema dei contratti tutta una serie di cose vabbè ho capito c'erano tutti il sistema dei contratti no cioè non è che viviamo quello che estrae la pistola per primo però non so io non so Michele se ti viene in mente qualcosa però a me a me pare che tutta questa questa enfasi sulla moneta il potere che ha la moneta di cambiare le cose è veramente malposta veramente è uno specchio per le allodole per non fare altre cose che andrebbero fatte cioè è colpa della moneta se i processi in Italia durano sette anni cioè ma non c'è abbastanza moneta non so no eh 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 cioè francamente eh è veramente un veramente sì sì è proprio forse ha ragione Luca di Bartolo che dice questi qui così vendono dei libri delle cazzate cioè capito sì ha ragione probabilmente ha ragione lui dovremmo neanche parlarne no il problema è che purtroppo levano risorse alla discussione che servirebbe del fatto del perché l'Italia ha sofferto in questo periodo così tanto rispetto ad altri paesi europei no è il paese peggiore che c'è in Europa per andamento dei salari reali pile eccetera questo bisognerebbe discutere no sì la moneta è neutrale nel lungo e fa aggiustamenti di breve sì ho capito però punto aggiustamenti impedisce di fare andare le cose in maniera disastrosa o le può fare andare in maniera disastrosa se sbagli a calibrare la moneta ma non è che cambia le tendenze di lungo periodo Michele insegna teorie della crescita non credo che stia a spendere lezioni su lezioni sulla moneta Michele spendi ore lezioni su lezioni sulla teoria della moneta tu quando insegni un microfono certo quando insegno teoria la moneta passo e insegno quello che fa la moneta ma vorrei evitare di andare lì avevamo promesso di discutere di questa io vorrei continuare a rimanere sulla cosa poi fra un po' finiamo perché è un'ora e venti che siamo qua però non ci sono domande da quelli che sono qua con noi domande da altri stavo guardando su youtube volete prego provo siccome per provarla c'è magari forse una provocazione cioè si è parlato chiaramente dei rischi di queste teorie è uno dei rischi principali che è anche uno di quelli che anche chi come me ne sa poco o niente risulta più più lampante quello dell'inflazione i fenomeni inflattivi però poi appunto chi come me purtroppo ripeto si forma un po' superficialmente perché è mancanza di tempo eccetera eccetera legge che in realtà in questo momento storico preciso c'è qualche discussione intorno al tema dell'inflazione perché per esempio in Europa eccetera eccetera non si riesce più a raggiungere quel 2% che veniva individuato una volta come un tasso abbastanza diciamo adesso voglio dire ideale però comunque diciamo standard e che si fa fatica proprio a far crescere l'inflazione e quindi uno che mette insieme fa uno più uno in maniera ovviamente semplicistica potrebbe dire beh però se a questo punto ci farebbe quasi comodo un po' più di inflazione magari anche solo parzialmente andare nella direzione di più spesa più eccetera eccetera non è che alla fin fine non sarebbe così negativo cioè non è che alla fin fine è un paradigma vecchio quello per cui si crea paradigma vecchio alla luce in realtà di quello che vediamo oggi non di chissà quali basi scientifiche quello per cui appunto aumentano cioè si svalutano insomma avviene il fenomeno dell'inflazione Michele vai tu o va eh no io devo chiedere scusa perché mi è arrivato un messaggio urgente ah guarda provo a risponderti provo a risponderti Emanuele il problema dell'inflazione o del è il famoso problema che a me piace definire del cubino l'inflazione come sale quanto basta cioè il problema di quella roba lì allora a parte il fatto che scusami storicamente qua Michele mi può dare una mano noi abbiamo vissuto periodi di grande crescita con deflazione e periodi di scarsissima crescita con inflazione quindi cioè anche questa cosa di dire ah siccome c'è inflazione allora c'è crescita I'm sorry ma non è che proprio funziona così cioè inverte tante volte il rapporto di causa-effetto non è che per forza un fenomeno diciamo di inflattivo sia specchio del fatto che la crescita reale ci sia allora questa ossessione dell'ICB col target al 2% francamente a me fa un po' ridere nel senso cioè scusami se il P crecesse in maniera reale del 4% ma l'inflazione fosse 0% cioè è un problema mi domando io facciamola all'incontrario frazione 0 il P f 4% reale come è stato durante per esempio i periodi della seconda rivoluzione industriale un periodo di guadagni di produttività per cui l'inflazione naturalmente quando guadagni tanta produttività sta giù poi non è necessariamente questo di questo periodo il caso secondo me qua c'è stato un global un global shock dal lato dell'offerta per la Cina nel 2001 nel VTO ma vabbè è una roba lunga da discutere quello che dico io è che questi target inflazionistici come dice sempre Michele sul numero di Maastricht o del debito o l'inflazione al 2% sono dei numeri così boh perché 2 sì 2,5 no 1,8 no boh sono numeri allora dopodiché e quindi io francamente non ho sta fede nei target inflazionistici eccetera eccetera mi sembrano delle robe boh che non non mi piacciono tanto dopodiché il problema del cubino dici perché se non c'è inflazione il tuo target è di avere inflazione non stampi un po' di soldi nel vero senso della parola quella che abbiamo detto prima cioè proprio stampo M0 e non fai salire l'inflazione perché il problema è che quando tu fai così è come buttare fuori il dentifricio dal tubetto rimetterlo dentro poi è un casino perché io provo a dirti una cosa perché adesso stiamo venendo non possiamo discutere tutti i tuoi l'economia in una serata in cui lo avevamo discutere una cosa sola la cosa che tu hai tirato fuori è l'eterna discussione sulla cosiddetta relazione causale o meno che si chiama se volete facciamo una sera bisogna portare uno di quei che sono rimasti veramente pochi che ci credono fideisticamente che venisse a guardare i dati il punto è banale storicamente è successo un periodo un periodo in cui nei dati si osservava una correlazione negativa tra l'altro lasciamo stare il povero Philips che aveva semplicemente non c'entra niente lui po' la bestia lui aveva semplicemente mostrato che la curva di domanda di lavoro era normale cioè quando c'era tanta domanda di lavoro e bassa disoccupazione i salari crescevano e quando c'era poca domanda di lavoro e tanta disoccupazione i salari crescevano poco addirittura calavano punto una roba normalizzata quella roba è stata cambiata a un certo punto si sono inventati che facendo crescere l'inflazione tu fai crescere l'occupazione e sono 90 anni che cercano è arrivato Ernesto che cercano modelli tutta sta roba una relazione che è una relazione una correlazione è stata vera per alcuni anni e poi è sparita per altre decennie è sparita di nuovo era ricomparso Ernesto non ce l'ha a fare perché sta che sono facendo casino scusate cioè chiudi il microfono se non te lo chiedo io e adesso è plateale da 15 anni 20 anni che non c'è e c'è un'attività febbrile ma qui vado veramente in politica dell'economia nelle banche centrali di trovarla massaggiando i dati statisticamente qui divento cattivo però faccio il Buchanan guardate ragazzi le banche centrali hanno a mio avviso molto più potericolo di loro soprattutto vengono viste da tutti come dei magici signori che hanno un toccasana in mano e possono fare miracoli tutta sta roba si basa sull'idea mitica che loro che loro anche loro non solo loro ma soprattutto loro hanno diffuso e cioè che c'è una relazione causale tra tasso di inflazione e tasso di occupazione che facendo cresce il tasso di inflazione tu fai crescere il tasso di occupazione o fai diminuire il tasso di disoccupazione te lo puoi fare praticamente sempre questa roba non è vera non è vera non è vera ormai abbiamo davanti decine di anni in cui è ovvio che non è vera e le banche centrali non amano rinunciare a sta roba qua qui andiamo come dire in politica della ricerca però se posso dire una cosa cioè in realtà la mia cioè non è il ricercare l'inflazione a tutti i costi perché appunto c'è questa correlazione che come sappiamo non è necessariamente sinonimo di rapporto causa-effetto anzi non lo è proprio però il mio discorso era più che altro se la paura è quella di fenomeni inflattivi molto severi di rischio Venezuela eccetera eccetera allora questa paura alla fine non dovrebbe essere un po' mitigata dal fatto che in questo momento la tassa di inflazione non sale benché si aumenti un po' la spesa eccetera eccetera cioè alla fin fine se quella è una delle principali obiezioni quell'obiezione non viene un po' a cadere se si vede che in questo periodo storico sembra quasi che non ci sia più quel legame tra emissione di moneta e crescita dell'inflazione che poi ripeto secondo me non è che necessariamente viene a mancare però c'è proprio chi De Long teorizzava che magari fosse invece per cercarsi nella domanda la causa del fenomeno inflattivo cioè non la spesa pubblica che era troppo alta ma la domanda che si andava a contrarre e quindi si generava il fenomeno inflattivo cioè non è che questa cosa può creare un po' di confusione in chi dice vabbè ma tanto l'inflazione non sale quindi noi spendiamo spandiamo quanto vogliamo stampiamo moneta perché ormai l'inflazione non sale più cioè al di là del fatto di dire che l'inflazione crea occupazione o che sia positiva di per sé anche senza voler toccare quell'argomento non so neanche come risponderti è tutto sai Friedman si parte da lascia stare Friedman prima poverino tra l'altro posso dire allora una cosa su cui ho lavorato non ho mai pubblicato questi lavori che ho fatto ma li conosco molto bene perché non li ho pubblicati perché non pensavo ci fosse un risultato rilevante allora è plateale che per un periodo di tempo e solo in alcuni paesi in particolare Stati Uniti e Inter c'è stata una curva cosiddetta di domanda della moneta M0 M2 M2 scusa piuttosto stabile c'è un contributo di Friedman appunto Lucas e altri su questo questa relazione stabile tra moneta e tasso di inflazione domanda di moneta e tasso di inflazione quindi se vuoi fra tassi nominali e quantità di M2 o M1 in circolazione è saltata dalla metà degli anni 80 ok dalla metà degli anni 80 stavola non c'è più perché perché il meccanismo di trasmissione della politica monetaria non è invariante nel tempo cambia perché cambiano i mercati finanziari cambia la regolazione cambia la maniera in cui le banche usano il contante come investono quello che fanno quello che non fanno la legislazione cambia e ovviamente negli anni 80 infatti è cambiato dopo la disinflazione di Volcker e le riforme che sono fatti i cambiamenti sono fatti negli anni 80 negli anni 80 nasce l'investment banking moderno c'è il big bang a Londra c'è tutta una serie di robe veramente anche sofisticate e complicate questo meccanismo di trasmissione sale e quindi occorre avere la saggezza questo l'ho imparato da Axel Leonov uno dei keynesiani critici e saggi che ha riflettuto per tanto tempo sulla cosa che era mio collega a UCLA per molti anni che si è mantenuti con il tema Axel giustamente diceva ma per ragionare sulle relazioni fra moneta crescita inflazione occorre guardare i meccanismi di trasmissione che non sono stabili perché sono suscettibili di cambi dovuti appunto a regolazione legislazione innovazione globalizzazione cambi negli movimenti di capitale conto è la politica monetaria in un mondo negli anni 60 dove non c'è libertà di movimento di capitale puoi pensare che in un mondo in cui i capitali non si possono muovere se non sullo spallone clandestino che va in Svizzera o roba del genere la politica monetaria in un paese abbia lo stesso effetto lo stesso meccanismo di trasmissione che ha 40 anni dopo dove puoi spostare soldi sui bitcoin 50 anni dopo sui bitcoin o elettronicamente i quattro anni del mondo è una follea no? la quantità di derivati o no di securities che una banca poteva utilizzare negli anni 60 che lui può utilizzare adesso per cercare di investire non c'è confrutto non c'è confrutto cioè il lavoro di Gianluca oggi e il lavoro di un banchiere degli anni di cuccia sono due bestie diverse pensa solo Emanuele a una cosa faccio un esempio la quantità di credito erogata dal sistema bancario tradizionale in America non è superiore a un terzo del credito totale interno tutto il resto è shadow banking money funds cioè tutta una roba che non c'era prima sono re-ipotecation delle securities ma pensate solo a una cosa che nessuno si ricorda ragazzi il bond market dei governativi viene creato dopo lo shock petrolifero prima non c'è cioè non ci sono non ci sono i titoli di stato prima dello shock petrolifero non esistono capito? no ma infatti è questo ho esagerato adesso lui però comunque no ma più o meno però Michele più o meno però il mercato del debito pubblico nasce ma non solo per lo shock nasce per le evoluzioni finanziarie anche per la crescita della quantità di debito nel mondo che i paesi a seconda l'Italia in 70 comincia a indebitarsi seriamente e quindi si crea un mercato di opportunità di comprare e vendere debito pubblico da certi strumenti per fare certe cose pensa il mercato dell'euro dollar il mercato dell'euro dollar nasce di nuovo in quel periodo per sfuggire alle regolazioni bancarie americane adesso ovviamente non ha più senso che fare quelle regolazioni non ci sono più capisci? ma questo è un po' molto lontano ragazzi no però se posso dire se posso dire una cosa solo poi mi taccio però è proprio il motivo per cui io apprezzo il lavoro che fate cioè nel senso che chi come me si avvicina da fuori non avendo frequentato non avendo fatto questo tipo di studi tende a fare quell'uno più uno e quindi a dire perché non spendere più sentazione chi ha le conoscenze è la cosa ideale proprio quando fa questo cioè viene e dice l'equazione è più complicata di così cioè c'è qualcos'altro da considerare i meccanismi di trasmissione eccetera eccetera il discorso dei bond e di tutti i meccanismi finanziari che non esistevano e che oggi esistono che effettivamente mi fa capire come il discorso sia molto più complesso e quindi non si possa ridurre a quella semplice ragionamento è però proprio quello che andrebbe secondo me spiegato al grande pubblico da far capire il perché questi signori sono dei venditori di fumo sono veramente dei pagliacci cioè per quelli di cose come la MMT cioè perché non si può arrivare a quel livello di semplificazione senza commettere degli errori aberranti cioè bisogna sempre considerare tutte le componenti solo che chi ripeto si avvicina da fuori chi ha l'interesse ma non ha probabilmente le competenze tende a dire ma scusa ma se io metto questo qua metto questo di qua e di là sai in Italia siamo tutti commissari siamo tutti bravi a far tutto e quindi io questo vi dico cioè vi lascio anche proprio per le prossime volte cioè a me piacerebbe piace quando c'è questo cioè quando c'è quel dire guardate che le cose sono più complicate e guardate che bisogna tenere in considerazione tutti questi vari aspetti che per esempio c'è ragione ci si prova c'è ragione ci si prova con più o meno dei successi a volte meno a volte di più è che è dura capisci perché quella è la teoria della montagna di cacca che diceva Michele prima sai tu sei colpito lì c'è un problema che Rick Dufer ha individuato perfettamente cioè per tanti anni internet è stata ignorata dall'accademia e da tutti e quindi questi qui hanno preso un vantaggio che c'è adesso però stiamo veramente parlando di sociologia c'è Ernesto Ernesto di qualcosa e poi salutiamo tutti c'era un signore c'era un signore che stava facendo una domanda aspetta Michele ok creare un nuovo di contratto di lavoro un apprendistato al contrario per quanto concerne le tasse sul lavoro con un'impostazione a scaglioni temporali simile a Jobact stucco più tengo il lavoratore occupato stabilmente più provo allo Stato di pagarne i contributi meno nel lungo periodo cioè insomma si cerca di fare le occupazioni con contributi a scalare se capisco bene non so non esiste un trucco per cui tu fai le robe e non le paghi cioè questo è il tema nel senso che soprattutto dove hai sistemi a ripartizione è un po' dura è un po' dura capito se tu non paghi i contributi servono a pagare le pensioni delle persone in pensione attualmente quindi o le paghi da lì o paghi dalle tasse o fai deficit cioè non è che ci sono molte altre vie e quindi non saprei dirti cioè il tema vero è sempre la crescita del pile che cosa la determina che è quello che Michele insegna brillantemente quindi non mamma mia anche i complimenti in pubblico e no ma è vero sono le due di mattina qua in quella della paese di centro io baci e abbracci credo che abbiamo dato ringrazio Emanuele Ernesto e Luca Ernesto però di qualcosa io vi saluto io vi ho ascoltato con interesse con interesse secondo me l'hai fatta un po' troppo complicata perché cioè chi ci ascolta deve capire solamente che l'MMT si basa su un su un fraintendimento ovvero pensano di poter stampare valore e il valore purtroppo non si può stampare si può stampare il veicolo che trasporta il valore ma non il valore e al posto del valore deve esserci valore guarda esattamente e la truffa dell'MMT è tutta qui pensano sono convinti e sono convinti che stampando i veicoli si possa stimolare la creazione di valore ma perché non l'hanno fatto prima allora sono convinti che stampando soldi si possano trovare investimenti produttivi e non è detto l'unica cosa certa è che stampando soldi si crea una svalutazione di salari reali svalutazione delle tasse delle entrate dello Stato si creano dei danni certi a fronte di benefici incerti l'MMT è una buffonata totale perché vive su questo fraintendimento tutto qua va bene con questa chiosa che direi che mi ha stimolato perché la ripeto per chi ci ascolta ed è interessato ci rifletta perché questo era uscito è una cosa talmente banale che io nella prima discussione con Conditi e poi anche con Galloni non l'ho neanche detto non l'ho neanche detto ma lo dico qua per l'ennesima volta e poi l'avrei fatto osservare a Mosler l'ho detto anche prima quando ho spiegato la differenza fra le emissioni di moneta come si fa a mio avviso correttamente come vorrebbero farla nella loro follia i cosiddetti MMT versioni italiani e cioè che loro pensano che la moneta sia un'attività dello Stato infatti Conditi la voleva vendere così e pensano di creare un'attività senza metterci a fronte di una passività è impossibile perché sai se posso creare attività da attività perché la sua idea era creo moneta perché dietro ci sono le tasse entrambe sono due attività se nella attività violi un principio banale hai creato il moto perpetuo è una tale stronzata di logica davvero fa ridere cioè viola la partita doppia non serve essere dei grandi economisti santa madonna viola la partita doppia dopodiché invocano misteriosi condizioni dello Stato la rava la fava e paperoga perché non sanno cosa dire infatti non sanno cosa dire e io infatti continuo a invitare ma infatti sarebbe anche carino perché magari mi apre la testa su delle cose che non vedo magari scopriamo un miracolo che per duemila anni nessuno milioni di persone non hanno capito invece no fanno battute insomma vabbè quella roba vi voglio tanto bene a tutti ciao ciao a tutti sì grazie a tutti Grazie a tutti